Io mi occupo da anni di ricerca traslazionale e quindi conosco in prima linea l'interazione tra pubblico e privato in ricerca clinica negli Stati Uniti. Questo crea grandissime opportunità perché porta vantaggi finanziari all'ospedale, risorse per trattare il paziente, permette al paziente di accedere a farmaci e trattamenti prima ancora che vengano poi messi in commercio e crea un'ulteriore risorsa economica per fare ricerca indipendente all'interno delle strutture. Se monitorata in maniera appropriata e se fatta secondo le regole della trasparenza è un'interazione che potrebbe portare grandissimi benefici anche in Italia.